Pari esterno della Nocerina Nella cala valevole per la 29esima giornata del girone di CLD i rossoneri non vanno oltre 1-1 contro il Portice non approfittando così del passo falso della Vibonese Restano comunque al Pino Cerini a pari merito non soltanto con i calabresi ma anche con il Troina Il tecnico Morgia conferma il coladato 4-3 con il solito tridente composto da Cavallaro, Russo e Dieme L'ex Mayuri opta ad avere un 4-4-2 con i due ex di turno albanese Di Pietro Nel primo tempo parte meglio il Portice che colleziona la sua prima chance al quinto con un tiro di Pandolfi parato da Gomis Dopo due conclusioni, al settimo un rilancio fortuna di Bussara che per poco non sorprende Gomis e al decimo un tiro di Maggio che va ampiamente alta è la Nocerina a creare l'occasione più ghiotta al diciottesimo eccesso di altruismo di Dieme che a tu per tu col portiere preferisce girare a Cavallaro che spreca tutto al trentesimo ancora Maggio, questa volta sul calcio di punizione palla però centrale, bloccata da Gomis al trentaduesimo Dieme calcia in porta la palla viene deviata e va di poco fuori col portiere spiazzato al trentottesimo il Portice passa in vantaggio Dieme va a terra per un infortunio Cavallaro si disinteressa della palla per fermare il gioco il difensore del Portice di Nocerino però fa solo la sfera mette al centro per la corrente Pandolfi che tutto solo non sbaglia Dopo la rete, mini rissa tra le due squadre dove Maiuri, che a fine caro ufficializzerà le proprie dimissioni insieme a Capitano Di Pietro decidono tre minuti dopo di far segnare Cavallaro la ripresa del gioco veramente un grande gesto di sportività questo farà imbesserire il gruppo organizzato porticese che deciderà a fine primo tempo di abbandonare lo squadro al cinquantunesimo su calcio di punizione Cavallaro colpisce il clamoroso palo l'azione prosegue con Giacini che calcia dalla distanza ma il bravissimo Montella a deviare in angolo dal seguente corner l'estremo difensore ancora una volta fenomenale questa volta sul colpo di testa di Manzo tra il settantanovesimo e l'ottantaduesimo i due portieri si rendono protagonisti di due bruttissimi errori il primo è Montella che manca l'aggancio della sfera rischiando un clamoroso autogol poi tocca a Gomis che commette lo stesso errore riuscendo poi però a rifugiarsi in calcio d'angolo è l'ultima emozione del match e dopo 4 minuti di recupero la gara finisce in parità la nocerina tra le due domeniche affronterà in casa la Cireani